Sarà Isa Danieli, la madrina del Campania Pride 2013, il corteo per i diritti delle persone gay, lesbiche e transessuali, che partirà alle 17 di sabato 29 da Piazza Cavour. Per la prima volta il Comune di Napoli sarà fra gli organizzatori dell'evento, che è stato presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo. Come rimarcato nei giorni scorsi dalla Corte di Strasburgo, l'Italia è oggi fra i paesi europei più arretrati in materia di tutela dei diritti LGBT, non avendo una normativa sulle unioni e neppure una legge contro l'omofobia. Nella graduatoria redatta da ILGA Europe, il nostro paese è agli ultimi posti, assieme a Bulgaria, Turchia e Lettonia. Abbiamo voluto soprattutto rivendicare la presenza della cultura napoletana all'interno del corteo Pride. Bisogna investire in cultura e in diritti civili per poter uscire dalla crisi e il Pride di Napoli. Dopo il Pride di Palermo arriva quest'onda che da Milano, Bologna, Catania, Napoli e Cagliari deve travolgere necessariamente un paese purtroppo ultimo in Europa sui diritti civili. L'Italia è ancora fuori dal sistema dei diritti. Tutta l'Europa che ha costruito l'Europa unita è dentro e noi soltanto fuori. La lotta è una lotta di tutti e che appartiene a tutti. Per tutta la settimana Napoli accoglierà una serie di eventi legati al Pride. Da mercoledì 26 all'Università Partenope una mostra fotografica sullo sport contro l'omofobia. Giovedì 27 all'Anificio la conferenza spettacolo in pantaloni rosa e garofano verde con Roberto Azzurro e Claudio Finelli. Venerdì 28 in Piazza Bellini, We Are The Pride, serata di musica, teatro e spettacolo con Rosaria De Cicco, Gea Martire, Pappi Corsicato, Massimo Andrei, Antonella Morea e altre decine di artisti a sostegno del Pride. Domenica 30 all'hotel Piazza Bellini, anteprima straordinaria del film Alfredo's Fire col regista americano Andy Abrams Wilson. La battaglia per i diritti ci appartiene, appartiene allo spirito di questa amministrazione, l'abbiamo dimostrato dal momento in cui ci siamo insediati. Il primo atto concreto, credo anche prima di Milano, è stato appunto il registro delle unioni civili. Lo spot del Campania Pride 2013 è stato girato dal regista Giuseppe Bucci con l'amichevole partecipazione di Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo. Dove ci sono diritti da riscattare, da esigere, mi troverete sempre in prima linea. Patrizio, ci conosciamo da 30 anni ma non eravamo mai stati amanti, per cui abbiamo approfittato dell'occasione. Grazie. Grazie. Grazie.